55 Kg Stine Wrestling Terza classicità Manage Catrini, Scozia Un applauso Terza classificata Tacis Gioeva, Israele Seconda classificata Sanchez Carima, Spagna E prima classificata Miraglia d'Oro, Montero Minerva, Spagna Premia il consigliere federale Lutro Canela E sarà vino spagnolo a essere suonato adesso, tra qualche istante Altyazio Un applauso Un applauso Un applauso Paralese Grazie a tutti.